Siamo qui con Claudia Maraston a Scienza Arte Ambiente 2012, benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Un grandissimo successo di giovani alle tue conferenze. Come si spiega? Una materia, perlomeno in apparenza, così difficile, impenetrabile, che seduce i giovani in questo modo così strabiliante, che è sorpreso anche te, mi pare, peraltro. Ma guarda, l'astronomia di Fala Cosmologia è l'ultima frontiera, perché una scienza più globale di questa non c'è e questa scatena le fantasie dei giovani, come ha scatenato la mia quando ho deciso di studiarla, anche basati su film di fantascienza di ottima qualità che ti stimolano l'immaginazione. Credo che l'astronomia, più di ogni altra scienza che sembra più statica, stimola l'immaginazione, questa tipica del giovane, forse così. E quali sono i film di fantascienza che hanno stimolato la tua immaginazione giovanile? Guerre stellari, sopra di tutti, perché mi piaceva Harrison Ford, terribilmente, questo era un film fantastico, e mi piacevano gli alieni, poi mi piaceva Star Trek, che lo fanno ancora vedere in Inghilterra, non so se qui è, e anche E.T., anche gli extraterrestri, quella è stata la mia motivazione iniziale per studiare astrofisica. Tra i giovani c'è stato qualcuno che si è interessato, al di là delle stelle, anche di una domanda che attroversa la storia delle idee, la possibilità di una vita lontano da qui, oppure è una curiosità che riguarda solo certi appassionati di materie un po' lontane dalla scienza? Dunque, in realtà, lo studio di pianeti abitabili è uno dei progetti più finanziati del telescopio spaziale Hubble, quindi in anni recenti si investono enormi quantità di denaro alla ricerca di tali pianeti, perché finalmente ci sono le tecnologie. Devo dire che nessuno dei ragazzi stamattina mi ha chiesto, quello che mi ha chiesto è se ci sono altri pianeti a parte la Terra, ma nessuno si è spinto a chiedermi se ci sono altre forme di vita, un po' li ho avvicinati io. Questo è un buon risultato perché significa che le cose più scientifiche sono quelle che li hanno affascinati maggiormente, quindi non hanno dovuto andare sull'esoterismo. E questo è una consolazione. Un'ultima domanda è la seguente. Da punto di vista della ricerca, questi giovani che ho visto così appassionati, qualche minuto fa qualcuno ti chiedeva consigli su quale facoltà scegliere. Che speranza hanno di diventare dei piccoli astrofisici, in Italia soprattutto, visto che tu insegni anche all'estero? Sì, dunque l'astrofisica italiana è rispettatissima, questa è una cosa che va ricordata. Gli astrofisici italiani partecipano ai progetti di più grande respiro. Se si studia in Italia si è molto meglio preparati che non studiare all'estero e poi consiglio uno stage all'estero. Io poi ci sono rimasta perché mi hanno continuato a fare le offerte ed è stata la cosa più conveniente, ma naturale, esatto. Però diciamo che passare un post-dottorato di 3-4 anni in America, soprattutto, che è un ambiente molto stimolante, in Germania o in Inghilterra, per poi rientrare in Italia con le proprie conoscenze direi che farebbe bene tantissimo alla ricerca italiana e alla crescita della personalità di questi ragazzi che vogliono fare i fisici, teorici. Grazie mille, grazie per le bellissime conferenze e anche per l'entusiasmo che traspare da ogni tuo intervento. Grazie. Grazie a voi.